E adesso l'ultimo intervento con Nicoletta Pirotta che oltre a essere dell'IFE è anche un membro di Transform Italia, una validissima collaborazione che portiamo avanti con orgoglio. Grazie Nicoletta, a te la parola. Sì, grazie a Roberto e grazie a Transform per questo invito che mi permette di presentare alcuni punti sui quali mi pare convenga riflettere. Ora ho sentito moltissime cose, moltissime riflessioni, non voglio tornare su queste riflessioni perché molte delle quali le condivido fino in fondo, voglio però puntualizzare in particolare due aspetti. Il primo, nella restaurazione conservatrice di cui si è parlato fin dall'inizio con Bertinotti che credo abbia tracciato un bel percorso e abbia messo sul piatto un'analisi molto buona di quello che è accaduto e che accade, mi pare che in questa restaurazione conservatrice oltre a quanto diceva anche il Presidente dell'AMPI, l'offuscamento o la riscrittura della storia funzionale ad una messa in discussione dell'antifascismo, ci sia anche un attacco formidabile ai diritti civili e intendo per diritti civili quelli che riguardano l'aborto, il divorzio, il corpo delle donne, insomma tutto quel piano di diritti e lo dico per una ragione molto semplice ma che mi preme sottolineare, vedete la Meloni non è soltanto donna di borgata, la Meloni è quella che precedentemente a diventare Presidente del Consiglio è divenuta Presidente del gruppo conservatore europeo, è stata più volte negli Stati Uniti a parlare a congressi e a conferenze dei repubblicani, in particolare di quel gruppo che si chiama MAGA, che appunto è uno dei sostenitori di Trump, è un gruppo che fa del suprematismo bianco una ragione del suo essere, quindi Meloni è per così dire riferimento e di espressione di quel movimento composito internazionale che comprende fra l'altro anche il congresso mondiale delle famiglie che come ricorderete nel 2019 ha organizzato un convegno proprio su questi aspetti qui in Italia a Verona, ricordo che a Verona ci fu una risposta veramente incredibile e formidabile del movimento femminista in particolare organizzato da non una di meno al quale però poi parteciparono attivamente anche i sindacati e altre realtà femministe e politiche e sociali. Ecco, questa rete internazionale mondiale che fa riferimento al suprematismo bianco ha in odio alcune questioni, il divorzio, l'aborto, i diritti delle persone omosessuali. Il gran girare per il mondo di questo periodo della Meloni ha certamente a che fare, come dice lei, per l'interesse del Paese o per la questione dei migranti, ma credo che abbia molto a che fare anche con il consolidamento e l'ampliamento di questa rete internazionale suprematista, omofoba, razzista e misogina. Questo lo dico perché a volte si considera la questione dei diritti civili inferiore o quantomeno distrazione di massa rispetto ai diritti sociali, diritti sociali che fra l'altro, voglio ricordare, sono stati ampiamente messi in discussione e in qualche modo frantumati o svuotati di senso anche dai governi di centro-sinistra, non solo italiani. Quindi come dire, su quell'aspetto lì la Meloni non deve fare altro che portare avanti un discorso. Sui diritti civili invece credo che bisognerebbe prestare particolare attenzione, perché come dicevo appunto la restaurazione conservatrice si gioca molto su questi aspetti, in particolare sul corpo delle donne, quindi sulla questione per esempio della gravidanza per altri, sulla questione dell'aborto, sul modello di famiglie, sull'ossessione per esempio, in questi giorni c'è stato molto dibattito su questo, sull'ossessione del crollo demografico che per questa rete internazionale e mondiale ha molto a che vedere con il femminismo e con la libertà sessuale, un crollo demografico ovviamente che paventa una sostituzione etnica di cui ha parlato anche uno dei ministri di questo governo, come a dire che la preoccupazione del governo riguarda anche e molto questi aspetti. Una restaurazione che ha come codice normativo e modello di sistema sociale, prendo spunto dall'eterizzazione di Monica Witting, una femminista materialista francese, come modello di sistema sociale l'eterosessualità, cioè l'eterosessualità è modello sociale in quanto relazione di dominio degli uomini sulle donne, relazione di dominio che però diventa paradigmatica anche per altre relazioni. Se intendiamo in questo modo i diritti civili ci rendiamo conto che essi stessi sono obiettivamente anticapitalisti, in quanto provano a minare quantomeno i sistemi di potere secolari che oggi conosciamo. Quindi a mio avviso, e questo è il primo punto che volevo sottolineare, non tenere insieme, non considerare l'intreccio fra diritti sociali e diritti civili specie oggi, specie in questo frangente storico, sociale ed economico, specie con questo governo rischia di non far capire, se vi posso permettere, la portata reazionaria di questo governo. Accanto all'ossessione sul corpo delle donne, sul modello di famiglia, sull'omosessualità e appunto i temi che ho provato a citare, vi è anche l'ossessione contro gli stranieri, l'ossessione quindi per le frontiere, l'ossessione quindi per i confini, per una patria che sia fondata sui legami di sangue, non a caso il partito della Meloni si chiama fratelli d'Italia, una ossessione che espunge il diverso, che espunge lo straniero e quindi anche le questioni razziali diventano un elemento inscindibile dai diritti civili e dai diritti sociali, sui quali bisogna prestare un'attenzione particolare in questo frangente storico. Quindi per sintetizzare in una parola, per poter comprendere tutto quello che si muove intorno a questa restaurazione, occorre davvero utilizzare una chiave di lettura, un concetto che è quello dell'intersezionalità, un concetto che è stato riportato al centro dell'attenzione, riportato al centro anche della politica grazie all'ultima ondata del movimento femminista che in Italia vede non una di meno come uno dei soggetti principali di questa ondata di femminismo, che è appunto indicato come sia necessario tenere insieme nell'analisi del reale le questioni che riguardano la classe, che riguardano il genere, che riguardano la razza o la provenienza, se il termine razza vi infastidisce. Questo credo che sia uno dei punti essenziali e fondamentali. Il secondo punto invece riguarda il cosa fare, cosa fare è una parola grossa, perché credo che sia complicato nell'incertezza dell'oggi e del futuro avere una ricetta o comunque avere una proposta che sia sufficientemente capace di mettere in discussione gli attuali rapporti di forza. Credo che però se noi partiamo per esempio dal concetto di intersezione, possiamo già da lì trarre alcune indicazioni, perché se non vogliamo che il concetto di intersezione rimanga nell'empireo delle idee, ma si tramuti in pratica, credo che allora una delle cose che andrebbero agite, secondo me, è l'intersezione tra le diverse lotte, tra le diverse pratiche. molti prima di me, Patrizia Sentinelli, ma anche la rete dei numeri pari, Giuseppe Di Marzo mi pare, diceva quanto c'è, quanto la geografia della speranza e della solidarietà esistano, esistano, ci sono, non vengono magari nominate, la stampa mainstream non ne parla, però sicuramente ci sono, ci sono anche lotte, ho in mente le manifestazioni di non una di meno, l'ultima delle quali ad Ancona proprio sui diritti riguardanti l'avorto del corpo delle donne, al quale ho avuto la possibilità di partecipare, ma ho in mente anche le lotte della GKN per la difesa non solo del posto del lavoro, ma anche per affrontare la questione del lavoro in altri modi, intrecciandola magari con le questioni ambientali, ci sono davvero lotte di forme di mutualismo che sono sicuramente importanti, quello che manca a mio avviso è la convergenza di tutte queste lotte all'interno di un progetto che prima ancora che è politico è sociale. Faccio fatica, anche per le esperienze di cui mi sono trovata parte in questi ultimi anni, a immaginarmi la possibilità di costruire una soggettività politica se nel contempo non si costruisce anche opposizione sociale e soggettività collettiva e sociale, faccio davvero fatica. Vengo dalla bella manifestazione francese del 6 giugno scorso sulla questione della riforma pensionistica e lì il conflitto sociale l'ho visto agire nei corpi degli uomini e delle donne che quella manifestazione hanno agito. Credo che l'intersezionalità, l'intersezione fra contraddizioni, fra sistemi di potere possa essere un elemento utile per provare a costruire quella convergenza di cui c'è bisogno per far sì che il conflitto sociale abbia qualche piccola possibilità, ma concreta, di mettere in discussione i rapporti di forza attuali. Ecco, io concludo dicendo che l'ho chiamato conflitto sociale. Mi piacerebbe poterlo chiamare lotta di classe, intendendo per classe tutte quelle soggettività di cui ho parlato e pensando, volendo sperare che uno dei soggetti che queste lotta di classe possano agire sia appunto il soggetto femminista. Grazie. Grazie, con questo era l'ultimo intervento di questa sessione. Ci diamo appuntamento alle sei e mezza per l'evento pubblico a cui abbiamo invitato diversi ospiti italiani e stranieri. quindi Marga sarà, come la nostra Presidente, a introdurre, co-Presidente insieme a Connie Hildebrand, a introdurre la seconda sessione che inizierà alle sei e mezza, quindi tra poco più di un quarto d'ora. Grazie ancora a tutte e a tutti.